Riprendono i lavori per la filovia sulla strada parco a Pescara, ma il WWF contesta e lo fa incontrando la stampa. La decisione è stata assunta dalla GTM, gestione i trasporti metropolitani, senza attendere il giudizio del TAR, previsto per il prossimo 19 giugno. La scelta del presidente della GTM, Michele Russo, sostiene Loredana Di Paola del WWF di iniziare i lavori di elettrificazione area del tracciato filoviario, a prescindere dalle preoccupazioni espresse dalle amministrazioni comunali di Montesilvano e oggi anche di Pescara, è inaccettabile. La risposta al sindaco di Pescara, che chiedeva di attendere il prossimo giudizio del TAR, appare arrogante e non fondata, continua l'esponente ambientalista. Fermare i lavori fino alla sentenza del TAR sarebbe invece un atto di responsabilità dinanzi a tutti i cittadini. Ieri è passato in Consiglio Comunale un ordine del giorno predisposto dal consigliere Maurizio Cerbo, che invita il sindaco Mascia a fermare i lavori, lavori che la GTM ha intenzione di riprendere appena dopo Pasqua. Noi ci appelliamo al sindaco perché fermi i lavori e quindi dia seguito a questo pronunciamento del Consiglio Comunale, perché riteniamo che quest'opera in questo momento sia priva di titolo autorizzatorio, illegittima, c'è un giudizio pendente al TAR che si avrà il prossimo 19 giugno, non si capisce questa accelerazione dei lavori. Invece di preoccuparsi dell'elettrificazione, aggiunge Vanessa Oppo dell'Associazione Carrozzine Determinate, la GTM dovrebbe risolvere invece il problema delle barriere architettoniche, criticità evidenziata e prescritta dallo stesso Comitato Via. Il Comitato Via, nell'ultimo pronunciamento, si è espresso unicamente sulla non demolizione delle opere, ma non ha assolutamente revocato la sospensione dei lavori. Tra l'altro le prescrizioni che sempre il Comitato Via ha scritto nel pronunciamento riguardo le barriere architettoniche, ad oggi non sono state ottemperate da nessun ente, né dalla GTM né dal Comune di Pescara. Noi ci appelliamo al buon senso del sindaco che in via cautelativa può la prossima settimana non concedere le aree alla GTM e aspettare tranquillamente il pronunciamento del Tribunale amministrativo, perché altrimenti si tratterebbe di uno sperpero di denaro nel qual caso il Tribunale dovesse dichiarare illegittima l'opera.